Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo incontro dal titolo Rigenerazione urbana, ambientale e sociale, obiettivi, strategie e strumenti per la resilienza e la ripartenza. Questo webinar, come avrete avuto modo di leggere sul sito di Eventi IPA, è un webinar introduttivo che propone una riflessione su due argomenti che potranno essere approfonditi in successivi incontri. Questi due argomenti riguardano i recenti sviluppi delle politiche pubbliche della rigenerazione urbana e riguardano il tema su come ripensare le città alla luce degli indicatori di risposta della pianificazione per insediamenti sicuri e green. Io sono Norina D'Agostini del Formez IPA e vi darò un supporto nel corso di questo incontro. Farò una breve introduzione prima di lasciare la parola alle relatrici di stamattina. Questo incontro si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione, percorso che a sua volta si inserisce nel progetto Pong Governance e capacità istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo è uno dei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica che ha dato mandato al Formez IPA di attuare il progetto stesso. Queste sono le tematiche che sono state trattate nel corso dei webinar e dei seminari realizzati nell'ambito del progetto, mentre questa infografica riporta il numero dei partecipanti ai seminari e ai webinar alla data del 31 agosto 2021. Hanno aderito ai seminari 4.575 partecipanti e ai webinar 29.583 partecipanti. Questa infografica mostra come sempre la data del 31 agosto 2021, la maggior parte dei partecipanti ai seminari provenisse dalla regione Campania e la maggioranza dei partecipanti ai webinar provenisse dalla regione Sardegna. L'ente di provenienza principale dei partecipanti, come mostrato da questa infografica, era il Comune. Queste sono tutte le attività realizzate all'interno del progetto al 31 agosto 2021. Le scorriamo insieme. Sono state realizzate 139 attività di formazione tra seminari, workshop, corsi e-learning e webinar di sensibilizzazione e formazione con 35.426 partecipanti e 2.210 amministrazioni. Sono stati costituiti e attivati 7 centri di competenza regionali in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia. Sono state realizzate attività di affiancamento e consulenza in presenza e a distanza, attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di semplificazione e comunità di pratiche sulla piattaforma rete.italiasemplice.gov.it. Ricordiamo ancora i centri di competenza pienamente attivi. Sono quelli della Basilicata, Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Sardegna e Sicilia. Il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione. I centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione e la gestione di procedure complesse. Questi sono tutti i risultati principali, i risultati raggiunti dai centri di competenza pienamente attivi che sono stati appunto attivati e i centri di competenza si sono rivelati degli strumenti efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e sono riconosciuti in ambito di programmazione. Questa è la pagina di eventi PA in cui è possibile trovare tutti gli eventi che sono stati realizzati nell'ambito del progetto e veniamo all'incontro di stamattina dopo la mia breve introduzione. Lascerò la parola alle dottoresse Carmen Iuvone e Giuseppina Liuzzo che sono entrambe esperte di semplificazione del Formats PA. Lasceremo poi uno spazio intorno alle 11 alle risposte alle domande che vorrete porre in chat e alle 11.30 è prevista la chiusura dell'incontro. Come dicevo questi sono gli argomenti che tratteranno le relatrici, politiche pubbliche a rigenerazione urbana, i recenti sviluppi e ripensare le città e l'indicatore di risposta della pianificazione per insediamenti sicuri e green. Come dicevo appunto potete scrivere in chat le domande da porre alle relatrici e questa sessione come di consueto sarà registrata, la registrazione e le slide saranno messe a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di eventi PA alla pagina dedicata a questo evento. Nell'augurarvi buon lavoro, ricordo che gli attestati di iscrizione vengono rilasciati a quanti si sono iscritti all'evento e seguono almeno il 20% dell'incontro e saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito di eventi PA alla voce i miei eventi. Lascio la parola alla dottoressa Carmen Iuvone che vedo già collegata e provvedo a proiettarne le slide. Buon lavoro a tutti! Dottoressa Iuvone? Grazie La sentiamo, perfetto. Bene, buongiorno a tutti e benvenuti. Il tema che andiamo ad affrontare, politiche pubbliche e rigenerazione urbana, ha un po' la finalità di delineare un quadro dei recenti interventi che si sono realizzati in un ambito, in una materia di particolare rilievo e interesse, proprio perché la rigenerazione urbana nelle sue diverse declinazioni ambientali, territoriali, urbanistiche, edilizie e sociali, è stata oggetto anche recentemente di interventi regolativi adottati attraverso anche la decretazione d'urgenza in relazione alle problematiche economiche e sociali determinate dalla emergenza pandemica. L'argomento per la sua complessità e interdisciplinarietà presenta profili di rilievo applicativo molto importanti che impattano direttamente sulla vita dei cittadini e delle imprese e che richiedono un aggiornamento costante anche alla luce degli orientamenti interpretativi della giurisprudenza. Pertanto partiamo da un concetto di rigenerazione urbana che ancora non è stato normativamente delineato, proprio perché manca una legge quadro nazionale, come vedremo tra poco. Cosa possiamo rilevare? Che per quanto riguarda l'ambito tematico di questo settore, la rigenerazione urbana ricomprende le azioni e gli interventi per il risanamento urbanistico, ambientale e sociale di aree caratterizzate da degrado edilizio ambientale e socio-economico, quindi quel carattere di trasversalità a cui ho fatto riferimento poc'anzi. Certamente sulla materia ha impattato una nuova concezione del territorio in relazione alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, in quanto il territorio, anche alla luce dell'evoluzione normativa e dell'orientamento interpretativo fornito dalla giurisprudenza, non costituisce più solo uno spazio topografico suscettibile di occupazione edificatoria, ma è rivalutato come una risorsa complessa che incarna molteplici vocazioni culturali, ambientali, produttive e storiche. Molto si parla del tema del consumo di suolo, proprio perché rappresenta una delle variabili più gravi del problema della pressione antropica di uno sviluppo eccessivo da parte dell'uomo sulle risorse naturali. Da questo punto di vista c'è un'interessante ricognizione su questo punto specifico in un lavoro isparambiente. Spesso troverete nelle slide un rinvio a documenti di approfondimento che sono tutti rinvenibili online, quindi per un maggiore approfondimento di specifici profili che necessariamente andiamo soltanto a delineare. Quindi alla luce di questa nuova concezione della rigenerazione urbana connotata da questa interdisciplinarietà, un elemento costante delle politiche pubbliche in materia è quello del necessario bilanciamento tra interessi pubblici spesso anche contrapposti per il miglioramento dei livelli di qualità della vita delle comunità territoriali. Quindi è un profilo questo che ritorna come motivo conduttore sia nella giurisprudenza che nelle scelte operate dal legislatore. Quindi il bilanciamento tra interessi contrapposti, tutti ugualmente riconosciuti e tutelati a livello costituzionale, ambienti e iniziative economiche, ma che devono trovare un necessario punto di equilibrio per il perseguimento di finalità generali, comuni. Ecco, c'è stato un grande lavoro di approfondimento da parte degli esperti di settore, in particolare un convegno che è stato fatto nel 2019 i cui atti sono rinvenibili sul sito della giustizia amministrativa con, appunto, io richiamo in questa slide l'intervento del consigliere Carpentieri il consumo del suolo e le sue limitazioni la rigenerazione urbana in cui si evidenzia che cosa? L'idea di fondo ampiamente condivisa è che ormai è finita l'epoca dell'urbanistica dell'edilizia di espansione ed è cominciata quella del riuso e del recupero dell'esistente un'idea di fondo facile da declinare in poche semplici azioni conseguenziali limitazione del consumo di nuovo suolo verde priorità al recupero e alla riqualificazione delle vaste aree periferiche compromesse e degradate bonifica dei suoli industriali dismessi riconversione e recupero dei capannoni industriali abbandonato consumo di nuovo suolo inedificato come estrema razio queste considerazioni espresse sono poi state anche declinate nei recenti interventi legislativi che vedremo nel seguito della trattazione da dove nasce questa nuova concezione del suolo e del territorio? certamente dall'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile approvata dall'ONU nel 2015 che ha individuato 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030 che sono obiettivi tra loro interconnessi e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile la dimensione economica, sociale e ambientale quindi quel tema del necessario bilanciamento tra interessi che devono coesistere e senza alcuna prevaricazione dell'uno sull'altro in questo senso rinvio ad un'interessante pubblicazione dell'ASVIS quaderno dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile in cui questi obiettivi vengono declinati ed esaminati con riferimento alla rigenerazione urbana tra gli interventi individuati dall'agenda 2030 rilevano certamente l'obiettivo numero 8 incentivare una crescita economica duratura inclusiva e sostenibile numero 9 costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa responsabile e sostenibile rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre arrestare e far retrocedere il degrado del terreno quindi le linee che avevamo già individuato limitare il consumo di suolo sostenibilità, bilanciamento da questo punto di vista c'è un'interessante pubblicazione sempre online dell'ASVIS del 2021 l'Italia, gli obiettivi dello sviluppo sostenibile esaminati anche alla luce degli effetti e dei riflessi che su tutte queste politiche ha poi avuto la crisi pandemica che ha chiaramente comportato una riflessione più ampia e più generale sul ripensamento delle città in versione green e smart ambito su cui tornerà la collega Liuzzo nel suo intervento successivo certamente accanto a iniziative nazionali molto si sta facendo a livello europeo perché questo è un tema ovviamente comune a tutti i paesi e quindi l'agenda urbana per l'Unione Europea meglio conosciuta come patto di Amsterdam che cerca, ha voluto promuovere politiche comuni di rigenerazione delle città e dei territori degli stati membri proprio in una politica che deve essere condivisa il più possibile per realizzare uno sviluppo urbano sostenibile e integrato i tre pilastri di questa nuova politica urbana europea che è richiamata in tutti i documenti dell'ASVIS che ho citato in precedenza sono la legislazione dell'UE quindi regolamenti direttive i finanziamenti dell'UE conoscenze e esperienze comuni proprio per raccogliere informazione sullo sviluppo delle città europee e creare anche delle buone pratiche da condividere nelle varie esperienze proprio per ovviare a tutti i problemi che sono ormai sotto gli occhi di tutti dal punto di vista della crisi climatica e ambientale e per realizzare una nuova agenda urbana europea a livello nazionale quindi abbiamo visto un livello europeo chiaramente questa materia risulta essere caratterizzata da livelli competenziali diversi quindi abbiamo il grande tema della governance della regolazione multilivello proprio perché nel nostro ordinamento alla luce dell'articolo 117 terzo comma della Costituzione sulla materia governo del territorio l'edilizia e l'urbanistica sono ricomprese all'interno di questa materia certamente ecco il tema del governo del territorio demandato alla competenza normativa regionale implica che cosa? un principio di leale collaborazione tra i diversi livelli territoriali di governo con riferimento alle materie urbanistica, ambiente, territorio, tutela del paesaggio e questo perché? perché questo ambito dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione è stato un ambito caratterizzato da un notevole contenzioso costituzionale proprio sotto l'aspetto e il profilo degli ambiti competenziali dei diversi livelli istituzionali e quindi qui vi ho citato una delle ultime sentenze in materia quella della Corte Costituzionale sentenza numero 164 del 2021 dove appunto si rifà nuovamente il punto tra tutela ambientale e paesaggistica demandata alla competenza statale e la materia governo del territorio demandata alla competenza concorrente delle regioni dice la Corte in sostanza la coesistenza di queste materie nell'ambito dell'assetto delle competenze Stato-Regioni implica che vengono trovarsi spesso sto leggendo appunto dal considerato indiritto che vi ho citato nella slide due tipi di interessi pubblici diversi quello alla conservazione del paesaggio affidato allo Stato e quello alla fruizione del territorio affidato anche alle regioni questo comporta la necessità di un dialogo collaborativo alla luce di quel principio di leale collaborazione che più volte la Corte Costituzionale ha richiamato e in questa decisione è richiamata tutta la giurisprudenza precedente per questo ho ritenuto interessante segnalarla con riferimento al tema proprio della rigenerazione urbana la Corte Costituzionale è intervenuta su un contenzioso concernente la normativa della Regione Lombardia la legge regionale numero 31 del 2014 disposizione per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato e in questa decisione la Corte ha affermato che il territorio deve essere considerato non più solo come uno spazio topografico suscettibile di occupazione edificatoria ma rivalutato come una risorsa complessa che incarna molteplici vocazioni quello che dicevamo nell'introduzione di questo tema che quindi è stato sancito anche a livello della giurisprudenza costituzionale a rafforzare maggiormente questa nuova concezione del suolo e del territorio molteplici le iniziative a livello nazionale ricordiamo la Carta di Bologna per l'ambiente le città metropolitane per lo sviluppo sostenibile la Carta prevede l'adozione per ogni città di un'agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile nella quale gli obiettivi generali vengono declinati in relazione alle specificità del proprio territorio quali sono gli obiettivi comuni per tutte le città metropolitane per le aree urbane la riduzione del 20% del proprio consumo netto di suolo al 2020 centrando le politiche urbanistiche sulla rigenerazione urbana quindi il recupero anche dell'esistente e interrompendo i processi di dispersione insediativa al fine di aumentare la qualità urbana e preservare quella ambientale su questo argomento richiamo solo e rinvio alla slide è stata istituita anche proprio stante la grande rilevanza del tema ma soprattutto la sua complessità proprio regolativa una commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie la relazione conclusiva che trovate online è stata adottata nella seduta del 2017 e la proposta finale è quella di lavorare a un piano strategico per le città italiane sulla base anche di specifiche linee guida da definire in maniera congiunta tra i diversi livelli istituzionali di governo certamente ecco qual è uno dei punti nodali che ancora non esiste una normativa organica in materia di consumo di suolo e di promozione della rigenerazione territoriale urbana nonostante le numerose iniziative legislative che si sono susseguite nel corso del tempo nell'ambito della diciottesima legislatura è stato adottato il disegno di legge tra i tanti, numero 1981 misure per la rigenerazione urbana nella relazione di accompagnamento si evidenzia che è quanto mai necessario indirizzare la linea politica verso un nuovo modello di governo del territorio orientato alla riqualificazione dell'esistente al riutilizzo dei siti dismessi e al recupero delle aree degradate piuttosto che allo sviluppo di nuovi siti edificati in aree verdi e solo agricolo con conseguente perdita di suolo in linea con quanto stabilito dalle politiche dell'Unione Europea che abbiamo richiamato in precedenza peraltro, come abbiamo in precedenza rilevato l'esperienza drammatica dovuta alla pandemia da Covid-19 ha fatto riflettere sull'importanza di ripensare le realtà urbane e periurbane in chiave smart e green arricchite di spazi comuni e verdi fruibili in sicurezza dalla comunità su questo aspetto mi permetto di rinviare a un interessante lavoro fatto dal Centro Nazionale di Studi per le Politiche Urbane sesto rapporto sulle città le città protagoniste dello sviluppo sostenibile il mulino 2021 che rappresenta proprio una sintesi dei molteplici profili l'elemento della interdisciplinarietà che ci sta accompagnando e che rappresenta il dato peculiare di questa materia quindi la sua complessità e anche il suo punto di forza proprio perché impatta su moltiplici interessi pubblici e in questo rapporto vengono appunto declinati i profili di maggior rilievo e interesse sull'argomento ho richiamato poi in alcune slide anche le iniziative delle precedenti legislature per dimostrare come questo argomento in realtà è da tempo oggetto di attenzione da parte del legislatore ma diciamo ancora non si è pervenuti all'approvazione di un documento comune di un documento finale più che comune e questo perché? perché in realtà molteplici sono le difficoltà che si evincono leggendo proprio i pareri espressi dalle regioni sulle diversi disegni di legge che sono stati presentati in particolare ho richiamato qui i due più recenti il documento della conferenza delle regioni e delle province autonome dell'8 aprile 2021 posizione sul disegno di leggi in materia di rigenerazione urbana dove ci sono vari testi unificati e ho qui davanti a me il testo di questo parere e l'incipit appunto è molto chiaro perché si dice si ritiene importante che un provvedimento legislativo a livello nazionale fornisca il riferimento quadro per le azioni regionali delle diverse politiche di rigenerazione urbana e territoriale e ne imposti la sua programmazione il quadro normativo a livello regionale proprio perché abbiamo richiamato prima l'articolo 117,3 della Costituzione il governo del territorio hanno consentito già nelle varie esperienze regionali l'avvio di numerosi interventi di rigenerazione urbana e quindi le regioni cosa chiedono in questo parere che devono essere comunque fatte salve le normative regionali previgenti già in linea con gli obiettivi nazionali al fine di tutelare i processi già avviati garantendone la prosecuzione in un quadro normativo già assestato cioè le regioni come vedremo andando avanti nel corso di questa breve relazione ci sono moltissimi casi di buone pratiche di rigenerazione urbana che a livello regionale sono state realizzate in attuazione della normativa regionale quindi il problema di conciliare tante istanze che scaturiscono dalle esperienze già poste in essere a livello regionale che devono confluire in un disegno di legge unitario in materia di rigenerazione urbana questa posizione peraltro le regioni l'avevano già espressa in un altro parere del 17 aprile 2019 concernente i disegni di legge sul consumo di suolo proprio perché in Parlamento nel corso delle varie legislature sono state presentate diverse iniziative in materia e quindi si spera che si possa finalmente approdare ad una normativa organica che faciliterebbe l'attuazione di una serie di interventi più efficaci sul governo del territorio sempre su questo profilo ho richiamato qui e rinvio alla lettura della relativa relazione che è sempre rinvenibile sul sito della giustizia amministrativa del presidente Patroni Grifi che evidenza appunto in questa sua relazione e al convegno di Varenna del 2019 la mancanza di una disciplina statale di principio va lamentata la carenza allo Stato di una disciplina statale di principio che sarebbe invece importante adottare in un settore di grande interesse per lo sviluppo economico e sociale del Paese e soprattutto per porre freno alla proliferazione dei modelli di urbanistica regionale differenziati quindi il problema è proprio qui trovare un punto di sintesi tra tutte queste esperienze che sono state nel frattempo portate avanti dalle regioni quindi qui trovate alcune slide in cui rinvio attualizzando ad alcuni recentissimi interventi legislativi regionali certamente senza alcuna pretesa di esaustività perché non era questa la sede per una rassegna di legislazione regionale ho richiamato le esperienze di alcune regioni la recentissima legge della regione Lombardia del 24 giugno 2021 la numero 11 disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità che prevede appunto la sua applicazione agli immobili dismessi che causano criticità per uno o più aspetti quale salute sicurezza idraulica problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza inquinamento degrado ambientale urbanistico sociale edilizio numerose le leggi altre leggi che la regione Lombardia aveva già adottato in precedenza anche sin dal 2014 sul tema del consumo di suolo quindi richiamo questa esperienza ma ci sono poi le leggi in materia della regione Veneto della regione Emilia Romagna la legge regionale numero 24 del 2017 successive modifiche regione Piemonte Lazio ho richiamato solo alcuni casi se qualcuno di voi ha interesse ad approfondire questo quadro normativo anche per una valutazione comparativa delle diverse scelte diciamo realizzate c'è questo dossier dell'ufficio studi del Senato consumo di suolo elementi di legislazione regionale che a me risulterebbe aggiornato a marzo 2019 e che comunque è rinvenibile sempre su online l'agenda l'agenda urbana per lo sviluppo sostenibile è sempre ricompresa tra le azioni a livello nazionale di questo abbiamo già fatto riferimento vado avanti perché purtroppo il tempo è tiranno ecco e poi abbiamo gli interventi previsti dall'agenda per la semplificazione 2020 2023 l'agenda per la semplificazione approvata il 23 novembre 2020 che come voi saprete concerne le linee di indirizzo il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito della emergenza epidemiologica da covid-19 proprio linee di indirizzo e interventi condivisi tra Stato regioni province autonome e autonomie locali e il crono programma per la loro attuazione quindi qual è la finalità di questa agenda quella di far sì che la semplificazione diventi una politica comune una politica comune ai diversi livelli istituzionali che alla luce delle rispettive competenze hanno la possibilità di rendere le procedure e la risposta alle diciamo istanze dei cittadini e delle imprese in termini più efficaci ed efficienti l'agenda questa agenda individua alcuni settori chiave per il rilancio abbiamo la tutela ambientale e la green economy l'edilizia e la rigenerazione urbana la banda ultra larga e la semplificazione in materia di contratti pubblici quindi la rigenerazione urbana e l'edilizia sono dei settori ritenuti praticamente strategici quindi quali sono gli obiettivi che si intendono perseguire con l'agenda si rinvia poi alla lettura di questo documento che molti di voi sicuramente conosceranno e quella praticamente della gli obiettivi principali sono costituiti dalla eliminazione sistematica dei vincoli burocratici alla ripresa la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure per le attività di impresa e per i cittadini quindi nell'ambito dell'agenda assumono particolare rilievo le azioni tese a implementare le misure del DL semplificazione dell'articolo 264 del decreto legge numero 34 del 2020 convertito con la legge numero 77 del 2020 il cosiddetto decreto rilancio quindi qui abbiamo adesso una successione di provvedimenti adottati con la decretazione appunto di urgenza proprio stante la indifferibilità e urgenza di provvedere a fronte di una crisi economica molto forte conseguente alla emergenza sanitaria quindi per ulteriori approfondimenti è possibile consultare sul sito della funzione pubblica l'approfondimento e l'analisi dell'agenda basata appunto su azioni di semplificazioni condivise tra governo regioni antilocali quindi la leale collaborazione quel principio di leale collaborazione che la Corte Costituzionale ha in tante occasioni espresso e ribadito nelle decisioni proprio per trovare un punto comune di raccordo in un sistema multilivello quale è il nostro per evitare diciamo inutili contenziosi tutto questo tema è stato ulteriormente sviluppato dal piano nazionale di ripresa e resilienza come a tutti noto l'Unione Europea ha risposto a questa crisi pandemica con il Next Generation EU programma che prevede riforme e investimenti per garantire sviluppo e crescita economica e ingenti pacchetti di sostegno all'economia quali sono i settori i settori sono transizione verde trasformazione digitale crescita intelligente sostenibile e inclusiva compresi coesione economica occupazione produttività competitività e ricerca la coesione sociale e territoriale salute e resilienza economica politiche per la prossima generazione infanzia e gioventù su questi settori c'è questo documento di approfondimento curato dalla Camera al quale faccio rinvio quali sono le principali missioni le principali missioni sono sostanzialmente sei quindi la missione 1 digitalizzazione innovazione competitività e cultura la 2 rivoluzione verde transizione ecologica 3 infrastrutture per una mobilità sostenibile 4 istruzione ricerca 5 coesione inclusione e la 6 la salute per quanto attiene al nostro argomento appunto della rigenerazione urbana rilevano le misure comprese nella missione 2 quindi efficienza energetica e riqualificazione degli edifici per garantire gli incentivi all'edilizia quindi le misure previste sono finalizzate all'efficienza energetica e alla riqualificazione degli edifici pubblici anche attraverso semplificazioni e accelerazioni delle procedure per la realizzazione di appositi interventi in materia in particolare questa missione prevede l'attuazione di un programma per migliorare l'efficacia l'efficienza e la sicurezza del patrimonio edilizio pubblico con interventi riguardanti in particolare scuole e cittadelle giudiziarie l'introduzione di un incentivo temporaneo per la riqualificazione energetica e l'adeguamento antisismico del patrimonio immobiliare privato e per l'edilizia sociale attraverso detrazioni fiscali per i costi sostenuti per gli interventi e lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento efficienti inoltre si prevedono appunto una serie di semplificazioni e di accelerazione delle procedure per la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico articolata su quattro linee di intervento che richiamo qui nella slide rendere operativo il portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici potenziare le attività del piano di informazione e formazione rivolte al settore civile aggiornare e potenziare il fondo scusate nazionale per l'efficienza energetica accelerare la fase realizzativa dei progetti finanziati dal programma prepac l'efficientamento energetico e sismico dell'edilizia pubblica e privata è basato sull'eco bonus e il sisma al bonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici quindi qui rinvio al punto dove viene declinato questo ecco bonus che poi ormai è nella nostra diciamo esperienza quotidiana a seguito dell'ultimo decreto semplificazioni oltre a questa missione con riferimento alla rigenerazione urbana rileva anche la missione numero 5 inclusione e coesione interventi di rigenerazione urbana gli interventi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti pubblici o privati destinate a persone con gravi disabilità o ad anziani non autosufficienti scusate c'è un refuso di partitura si affiancano ad altri interventi di rigenerazione con importanti ricadute sulla riqualificazione dei tessuti urbani più vulnerabili periferie aree urbane del paese le politiche di inclusione prioritariamente dedicate alle fasce della popolazione che vivono in condizioni di marginalità sociale sono sostenute anche con interventi di potenziamento dell'edilizia pubblica residenziale di housing temporaneo come le strutture di accoglienza temporanea per gli individui senza fissa dimora e in difficoltà economica e di housing sociale destinati ad offrire alloggi a canone ridotto ad esempio a studenti o famiglie monoreddito quindi qui si evidenzia quel profilo sociale della rigenerazione urbana che è evidenziato proprio nel titolo del nostro webinar proprio perché anche questo è un aspetto rilevantissimo importante non soltanto quello urbanistico e ambientale ma anche quest'aspetto legato alle politiche di inclusione di coesione che nel PNRR viene chiaramente declinato alla missione 5 quindi sviluppo di queste potenzialità insite nelle politiche pubbliche di rigenerazione urbana il quadro delle misure e risorse destinate alla rigenerazione urbana e housing sociale intesa come edilizia abitativa sociale per le persone in situazione di marginalità e di difficoltà economica attengono in sostanza a questo tipo di interventi quindi investimenti in progetti di rigenerazione urbana volte a ridurre situazione di degrado sociale piani urbani integrati programma innovativo della qualità dell'abitare queste quindi sono le due missioni del PNRR che vengono in rilievo e una particolare attenzione nell'ambito del piano di ripresa e resilienza è dedicato ai piani urbani integrati che hanno l'obiettivo di trasformare territori più vulnerabili delle periferie in particolare delle città metropolitane elemento questo che quella commissione parlamentare d'inchiesta che abbiamo richiamato all'inizio ha puntualmente evidenziato nella sua anche drammaticità con l'obiettivo appunto di trasformare territori vulnerabili in città smart e sostenibili limitando il consumo di suolo edificabile quindi questo investimento richiamato nel piano nazionale di ripresa e resilienza prevede la predisposizione di programmi urbanistici di rigenerazione urbana partecipati finalizzati al miglioramento di ampie aree urbane degradate alla rigenerazione e alla rivitalizzazione economica quindi cosa possiamo concludere dall'analisi delle previsioni del piano che c'è una componente urbanistica territoriale edilizia ma anche una componente sociale e di praticamente imprenditoriale di questa materia alla quale vengono rivolte opportuni finanziamenti il tema della rigenerazione urbana come dicevo all'inizio di questo breve intervento che va necessariamente per pillole per punti perché il quadro è talmente ampio e l'obiettivo è quello di dare appunto una cornice di contesto e abbiamo già avuto appunto nel 2019 il cosiddetto decreto sblocca cantieri che ha praticamente introdotto alcune disposizioni in questa materia apportando anche alcune modifiche all'articolo al testo l'articolo 5 al testo unico dell'edilizia il DPR 380 del 2001 poi abbiamo avuto il decreto semplificazione numero 76 del 2020 quindi in piena crisi pandemica convertito con la legge numero 120 del 2020 che ha previsto all'articolo 10 numerose semplificazioni e altre misure in materia edilizia proprio perché la finalità era quella di semplificare e accelerare le procedure edilizie ridurre gli oneri a carico di cittadini e imprese su questo il decreto legge 76 del 2020 prevede proprio all'articolo 14 disincentivi all'introduzione di nuovi oneri regolatori assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio esistente qual è qual è stata diciamo principalmente la finalità di queste disposizioni introdotte nel 2020 con le modifiche al testo unico edilizia si evincono chiaramente dalla relazione illustrativa rilanciare un settore quello dell'edilizia che ha registrato un trend negativo negli ultimi anni apportando modifiche alla vigente disciplina dell'attività edilizia al fine di rispondere alle reali esigenze del territorio mediante interventi volte a evitare ulteriore consumo di suolo quindi nel decreto semplificazioni del 2020 un sostegno pieno alla riqualificazione urbana per la difesa del paesaggio alla valorizzazione del costruito contro il consumo di suolo anche su questo provvedimento legislativo si rinvia al sito della funzione pubblica in cui vengono esaminate le principali innovazioni introdotte in particolare per attivare processi di rigenerazione urbana si prevede praticamente un uso temporaneo degli immobili questa previsione è stata praticamente oggetto anche di buone pratiche buone prassi applicative che ha consentito il riutilizzo appunto di questi immobili per un periodo temporaneo purché appunto l'unico elemento è che deve trattarsi sempre di iniziative di rilevante interesse pubblico generale correlate agli obiettivi urbanistici socio-economici e ambientali indicati nell'uso stesso quindi andiamo avanti abbastanza rapidamente su questo aspetto perché purtroppo il tempo corre via diciamo su questo decreto semplificazioni del 2020 si rinvia è stato oggetto di un webinar tematico nell'ambito del progetto semplificazioni un webinar del 23 novembre 2020 a cui rinvio perché insieme ad altri colleghi del progetto sono state proprio esaminate nel dettaglio le nuove procedure oggetto di intervento riformatore quindi arriviamo all'ultimo decreto semplificazioni il numero 77 del 2021 governance del PNRR prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure decreto legge convertito con la legge numero 108 del 2021 vengono quindi declinati disciplinati il super bonus e l'efficientamento energetico degli edifici all'articolo 33 e all'articolo 33 bis l'articolo 33 misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana 33 bis ulteriori misure in materia di incentivi di cui all'articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020 richiamato in precedenza quali sono le principali novità che sono state introdotte praticamente tutti gli interventi che rientrano nel super bonus compresi quelli che riguardano parti strutturali degli edifici e i prospetti potranno essere realizzati con una semplice comunicazione al comune asseverata dal tecnico la cosiddetta CILA super bonus sono esclusi solo gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici nella CILA dovranno essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l'immobile in oggetto per gli edifici più risalenti è sufficiente dichiarare che la costruzione dell'immobile è stata completata prima del primo settembre del 1967 in tutti i casi non sarà più necessaria l'attestazione di stato legittimo particolarmente compresa e onerosa in questo caso in modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico sono e qui richiamata appunto la slide di presentazione del decreto legge numero 77 del 2021 diffusa dal Dipartimento della Funzione Pubblica aggiornata al 28 luglio 2021 qui avete il link per poter scaricare le slide di presentazione su questo argomento che è certamente l'argomento su cui maggiormente si sta come dire c'è stato un forte impatto applicativo sappiamo che è stata adottata appunto in conferenza unificata il 4 agosto del 2021 l'adozione di una modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività ai sensi dell'articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020 proprio perché la modulistica unificata costituisce un altro di quegli aspetti di quegli elementi per portare a una politica comune attuativa comune tra i diversi livelli istituzionali e diciamo questo accordo che gran parte di voi conoscerà sarà scaricabile dal sito sempre della funzione pubblica al link che ho riportato ma questa materia questo ambito proprio per la sua rilevanza sarà oggetto di un webinar tematico solo su questo profilo il 19 ottobre prossimo da parte di un collega del progetto l'ingegner Massimo Pugioni che certamente conoscerete e avete avuto modo di apprezzare per le sue competenze un'ultima slide di riferimento perché ormai il mio tempo è scaduto su questo grande tema della rigenerazione urbana ci sono esperienze applicative di eccellenza proprio perché sono stati portati avanti i laboratori sperimentali sono stati fatti dei bandi particolari soprattutto anche a livello regionale sono state praticamente individuate formule anche molto innovative per realizzare dei contratti di rigenerazione urbana tra regione e comune proprio perché in questa materia i comuni hanno un ruolo fondamentale proprio nella gestione delle diverse pratiche edilizie quindi ci sono progetti interessantissimi che io qui mi limito così a richiamarne solo alcuni in quanto abbiamo praticamente una ricognizione nelle diverse parti del territorio nazionale che è stata curata dall'INU istituto nazionale di urbanistica proprio per mettere a fattor comune le migliori pratiche e le migliori esperienze io a questo punto purtroppo devo chiudere il mio intervento per non sottrarre spazio alla relazione della collega Liuzzo spero di essere stata chiara nella mia esposizione la maggiore difficoltà era la sintesi nel poter offrire questo panorama e vi ringrazio per l'attenzione a questo punto la dottoressa a cui chiedo di attivare webcam e microfono buongiorno dottoressa provvedo a proiettare buongiorno a tutti buona giornata grazie alla dottoressa Iuvone grazie ancora allora in attesa che vengano caricate le slide mi piacerebbe rispondere alla prima domanda che è stata posta sulla chat la domanda è se appunto l'evento pandemico è diventato e diventa strutturale probabilmente riferita alle innovazioni che si sono appunto succedute a partire proprio dal drammatico effetto del covid-19 con le riforme avviate dal governo prima con il DL 76 2020 trasformato nella legge 120 appunto 2020 e in ultimo con il DL 77 2021 che stiamo analizzando allora vorrei rispondere genericamente ma anche dire che la mia comunicazione è in stretta integrazione e continuità con quella precedente la dottoressa Iuvone l'evento pandemico purtroppo come accade per tutti gli eventi preventivabili i cui rischi sono stati presi in considerazione nel caso specifico già dalla medicina e dalla sanità da almeno 30-40 anni abbiamo vissuto la SARS abbiamo vissuto altri virus certo non con effetti di immediata diffusione e proliferazione a livello globale ma devo dire purtroppo che sia per il tema che stiamo affrontando quanto per gli aspetti della resilienza a cui è chiamato l'intero pianeta l'evento pandemico ha solo messo in evidenza la maggior parte di questioni note e purtroppo irrisolte cioè diventa strutturale oppure diventa funzionale l'evento pandemico per accelerare procedure di procedimenti scusate il bisticcio o comunque connesso alla valutazione di piani e programmi per la rigenerazione e la sicurezza dei territori di cui si parla da ormai 30 anni con la nuova rivoluzione diciamo con la rivoluzione urbanistica i cosiddetti piani di governo che tutti conosciamo con il cambio di rotta nei piani sia urbanistici sia generali che di settore ma anche per i piani di governo del territorio quindi alla scala urbana nella scala territoriale sono diventati sempre più adattivi cioè hanno tenuto in debita considerazione evento pandemico o evento non pandemico il fatto che comunque il pianeta sta cambiando nelle città si concentra la famosa la maggiore domanda e il maggior fabbisogno di servizi mentre abbiamo un territorio periurbano e un territorio agricolo alla mercè di usi e utilizzi non ben pianificati quindi cosa ha messo in luce l'evento pandemico e di cosa si occupa sia il tema della rigenerazione che è un tema appunto come avete visto che tocca direttamente l'innovazione e la transizione ecologica attuale ma tocca sicuramente quelli che dovevano essere i temi fondamentali dell'agenda urbana quindi i problemi non risolti quali sono e che abbiamo vissuto soprattutto durante il lockdown la prossimità dei servizi e del verde quando si usciva dalle nostre case per paradossalmente accompagnare i nostri amici fidati i nostri cani per esempio a passeggiare quel poco che c'era consentito di stare fuori evitando il contatto e quindi apporsi a debita distanza hanno fatto vedere le nostre città le condizioni in cui noi cittadini viviamo i servizi che devono essere che sono consigliati essenziali e che devono essere comunque non solo progettati nella pianificazione ordinaria o nella rigenerazione ma che devono essere attuati che cosa diciamo da sempre nell'urbanistica ma soprattutto nell'urbanistica dell'ultima generazione come nei piani territoriali nei piani di governo dei territori più vasti a livello appunto dei consorsi delle città metropolitane una prossimità ai servizi i famosi 3-500 metri di sostenibile distanza percorribile da bambini anziani per raggiungere quindi la scuola o il presidio sociale o altro la prossimità alle infrastrutture verdi ai parchi ai giardini pubblici non è un'innovazione del covid e non è sicuramente una procedura che deve essere accelerata con procedure straordinarie ma il covid l'ha messa in evidenza questa carenza il diritto alla qualità dell'aria il diritto ad avere un clima respirabile che non porti con sé e l'abbiamo visto anche durante l'evento pandemico appunto abbiamo visto che trasporti anche il virus si era detto addirittura che la concentrazione delle polveri sottili appunto trascinassero e trasportassero per distanze superiori ai due metri il virus il covid il diritto ad avere un paesaggio urbano che ci fa sentire non solo sereni alla sua vista quindi nella sua percezione diritto sancito dalla Costituzione come diceva la dottoressa Iuvone ma anche un paesaggio che ci fa stare bene pensate al ruolo che ha una visione equilibrata del paesaggio urbano non urbano la presenza del verde il silenzio l'assenza di cattivi odori anche su persone che hanno delle patologie non esclusivamente appunto che attengono la sfera fisica quindi anche la patologia mentale il disagio psichico viene curato attraverso viene aiutato ad essere superato attraverso città più vivibili e infatti abbiamo una direzione molto importante intrapresa dai movimenti e le città healthy le città salutari non è un caso ma non è la pandemia che l'ha fatta venire fuori questa esigenza l'ha solo rilevata cosa ha rilevato anche l'effetto pandemico di cui dobbiamo prenderci cura non solo nei piani nei programmi e nelle valutazioni ambientali strategiche dobbiamo evitare dobbiamo arrestare il consumo di suolo il consumo di suolo il tema del consumo di suolo come vedremo non è un tema diciamo che è venuto fuori o rilevato dall'effetto pandemico purtroppo ma è un tema di cui si dibatte insieme alla rigenerazione da almeno 30 a 40 anni e l'effetto pandemico l'ha fatto venire fuori come ha fatto venire fuori l'utilizzo l'utilizzo comunque il ruolo e la funzione della biodiversità della tutela della biodiversità urbana ma anche questo tema non è un tema nuovo non è un tema che noi dobbiamo riconsiderare nelle procedure di vaso valutazione di incidenza quando andiamo a presentare un progetto di rigenerazione per godere di facilitazione e semplificazioni è un tema che intrinsecamente l'Unione Europea ha detto di innestare nei nostri piani e quindi di tenerne conto nella rigenerazione altro tema che purtroppo è venuto fuori prepotentemente alla luce appunto l'abbiamo richiamato in parte è la diciamo la presenza invasiva pervasiva e che aumenta delle CO2 cioè di tutte appunto l'anidride carbonica che è presente e che sta distruggendo e sta diciamo disquilibrando la qualità della nostra area e che sta generando poi la rottura del cosiddetto permafrost aumentando le temperature si sta sciogliendo si stanno sciogliendo tutti i ghiacci dei nostri ghiacciai compreso il Monte Rosa che si è addirittura assottigliato il ghiaccio di oltre un metro facendo questa premessa adesso io entro nel merito della comunicazione odierna che ha lo scopo di far capire la mutua diciamo relazione che intercorre con questa particolare momento e vicenda della transizione ecologica col PNRR e col Piano e il Fondo Nazionale complementare con le accelerazioni procedurali per conseguire l'efficacia della spesa e finalmente farla veramente questa rigenerazione ambientale e sociale e non metterla solo nelle leggi e capire quali possono essere gli elementi le informazioni e i contenuti che devono avere i piani e quindi i rapporti ambientali il rapporto ambientale non è un elaborato avulso dalla pianificazione e dalla programmazione vedremo come il rapporto ambientale è un elaborato che fa parte del piano tanto è vero che la valutazione ambientale strategica che viene rilasciata come parere sulla base del piano e del rapporto ambientale li vede assolutamente uniti i due diciamo il complesso dell'elaborazione le vede assolutamente tutte ricomprese nel piano e appunto il piano e la VAS decorrono fin dal momento della proposta fatta questa breve premessa ma penso importante per la domanda che è stata posta all'inizio in chat andiamo avanti noi siamo molto concentrati ovviamente per i suscettibili procedimenti di VAS che possono essere applicati a piani e programmi di rigenerazione o di ripresa appunto per la coesione siamo legati a quello che abbiamo analizzato la volta precedente in vari altri seminari e appena qualche minuto fa ripreso dalla dottoressa Iuvone con i finanziamenti del cosiddetto fondo coesione appunto che è una quota importante degli investimenti per la ripresa e la resilienza che sono noti principalmente con l'acronimo appunto di REACT quindi sono appunto gli interventi che noi andiamo a considerare per gli effetti e gli impatti che potrebbero dare origine a valutazioni ambientali strategiche abbiamo nella volta scorsa la volta scorsa abbiamo enucleato e non li riprendiamo in questa sede ovviamente gli interventi proposti di appunto sul fondo e coesione per i grandi diciamo per la valorizzazione dei grandi attrattori ambientali culturali e sociali e tra questi vi ricordo abbiamo anche citato il portovecchio di Trieste con tutta la ripresa del waterfront il waterfront di Bari quindi sono interventi di area non sono semplici progetti e abbiamo anche detto che erano non solo suscettibili di VAS ma nell'accordo di programma per realizzare la ripresa appunto della portualità di Costa Sud di Bari Levante come in quello di Trieste si parla appunto della procedura VAS in primo caso appunto già espletata quindi come vedete tutto ciò di cui ci siamo occupati e ci occuperemo in particolare oggi ha a che fare con l'importante obiettivo messo in campo dal DL77 appunto trasformato in legge dal 108 2021 soprattutto per gli interventi di rigenerazione intendendo con rigenerazione la doppia accezione io rigenero quindi do nuova vita a qualcosa che già esiste ma deve essere appunto rigenerata riqualificata recuperata ma posso anche rigenerare dando una nuova funzione quindi vado a rigenerare una componente come vedremo come quella del suolo per esempio come quella del paesaggio dando una nuova destinazione funzionale classicamente urbanistica tra gli interventi che noi abbiamo richiamato e che anche l'avvocato Iuvone ha richiamato nel suo intervento sicuramente e saranno quelli che verranno attivati molto presto a regia e a titolarità dalle amministrazioni soprattutto le città metropolitane e comuni così e tipui i piani urbani integrati abbiamo visto la doppia accezione quando abbiamo richiamato la doppia accezione appunto della rigenerazione quando abbiamo richiamato il DL 59 20 21 cioè il fondo di coesione il piano nazionale della coesione nella precedente comunicazione perché l'abbiamo richiamata appunto per mettere in evidenza i procedimenti e le procedure spesso e tipicamente le VAS ma in molti casi le VAS integrate abbiamo visto all'articolo 19 cioè l'avvio della procedura di via e vedremo perché e come e poi abbiamo appunto individuato i cosiddetti piani che effettivamente non sono di nuovissima generazione perché vedremo e poi hanno una storia molto lontana e che si va diciamo arricchendo di nuovi contenuti e nuove integrazioni all'interno della rigenerazione abbiamo visto come sono descritti questi piani urbani richiamiamo la cosa importante il concetto il contenuto e l'obiettivo specifico fondamentale dei piani urbani integrati ai fini VAS ai fini delle integrazioni poi della dimensione green che hanno l'obiettivo come dicevamo di trasformare i territori vulnerabili e la vulnerabilità territoriale poi vedremo in che cosa si sostanzia per avere appunto città smart e sostenibili limitando il consumo di suolo edificabile torneremo su questi concetti ma il concetto principale su cui voglio attirare la vostra attenzione è quello che ho messo in frontespizio è che il concetto l'obiettivo trainante della rigenerazione e della transizione ecologica che è il concetto di green ora per green bisogna si intende classicamente il contributo dato da infrastrutture verdi o dalla tra virgolette verdificazione delle città basta mettere del verde che ha una importantissima funzione di trattenere le polveri sottili di mitigare la qualità dell'aria di assorbire il carbonio con la fotosintesi chiaramente l'infrastrutturazione verde di un territorio di tramite gli interventi in ingegneria naturalistica il green delle infrastrutture verdi è una componente fondamentale per riassettare i territori per riequilibrarli per esempio in aree a rischio di frana ma green nell'accessione del PNRR nell'accessione di REACT che è una quota di PNRR ma soprattutto nell'accessione della nuova attuale programmazione 2021 2027 ingloba oltre all'obiettivo contenuto intervento dell'infrastrutturazione verde e blu dei territori volta a migliorare naturalmente il contributo verde a e blu per contributo blu è chiaro che andiamo a considerare tutti i corridoi blu generati dalle incisioni dalle aste fluviali dal reticolo idrografico di un territorio le cui sponde e cui alvei devono essere chiaramente recuperati mantenuti nelle loro funzioni e quindi questo grande infrastruttura green e blu sicuramente rappresenta una componente fondamentale del concetto di green del nuovo quadro comunitario di sostegno e quindi dell'obiettivo 2021 2027 e quindi del nostro PNRR ma dentro green c'è tutta l'agenda urbana dentro green oltre ai concetti di rigenerazione e di rafforzamento dei caratteri di resilienza c'è l'economia circolare uno degli obiettivi fondamentali dell'unione europea è appunto andare a incidere in un ciclo virtuoso di economia circolare che dalla materia produce sempre premateria reimmettibile nel mercato dell'economia verde e quindi ciclicamente riutilizzabile e quindi mai usata e utilizzata come rifiuto cioè fare in modo che non si produca rifiuto sin dalla fase della progettazione della materia e degli usi di questa materia quindi pensiamo a tutto il tema delle plastiche a tutto il tema che poi investe un'economia urbana chiaramente perché devo andarle a riciclare riutilizzare conferire trattare con impatti importanti sia in fase quindi di produzione e di merchandising come anche in fase di smaltimento l'economia circolare che insita in tutti gli usi che si fanno della città e non soltanto delle materie che compongono la città è un altro pezzo di questo green quindi quando io vado a ipotizzare interventi di rigenerazione dice cosa c'è inter green c'entra e lo metterò anche in evidenza nei miei rapporti ambientali userò delle materie anche a livello di edilizia che possono avere caratteri di regionalismo che possono essere appunto effetto di possono essere state riciclate e riusate in edilizia quindi anche questo aspetto rientra in ciò che sono i due aspetti che andremo a valutare per la rigenerazione quindi dentro il green c'è praticamente un importante forse la maggior parte del ciclo di vita della della città dal punto di vista delle materie con le quali la stessa è composta e delle quali la stessa e sulle quali la stessa fonda la propria economia quindi è un aspetto molto importante il green ha un'accezione particolare fatta quest'altra premessa entriamo nel vivo del nostro tema come già delineato dalla dottoressa Iuvone nei pui coesistono le due anime della rigenerazione che la vaste deve tenere in debita considerazione la qualità dell'ambiente e la qualità sociale e tutti e due gli obiettivi di qualità devono appunto sono considerati come integrati e inclusivi cioè non si può conseguire una qualità ambientale se la qualità sociale non viene raggiunta l'obiettivo della qualità sociale vi ricordo che per ambiente nella valutazione ambientale strategica e nei rapporti ambientali appunto sia essi preliminari quindi diciamo per la verifica di assoggettabilità sia rapporti ambientali redatti per la valutazione ambientale dall'articolo 13 all'articolo 18 naturalmente contengono l'ambiente e appunto contemplano l'ambiente in tutte le sue componenti naturali fisiche non fisiche legate appunto alla mobilità all'economia alla società al turismo quindi l'ambiente to cure quindi la valutazione ambientale strategica riguarda tutto l'ambiente nel caso della rigenerazione urbana l'ambiente direttamente interferito è interessato naturalmente la città o quella porzione di città pensiamo al waterfront di Bari o al portovecchio di Trieste oppure agli interventi che abbiamo ai grandi interventi strategici quali appunto per Palermo abbiamo parlato del recupero della manifattura tabacchi che diventano rilevanti ai fini VAS perché nel rigenerare trasformano il territorio e la trasformazione naturalmente introduce un concetto di variante questo territorio viene variato ma non solo dal punto di vista della norma ma proprio delle modifiche volte sempre appunto a raggiungere la sostenibilità dei luoghi e degli utenti ma variano si trasformano rigenerandosi dicevamo scusate che appunto non è una materia nuova quella della rigenerazione o quella degli interventi anche partecipati ricordiamoci che con i contratti di quartiere i Pru i Piu tutte queste sigle che sono abbastanza note ai comuni che ci seguono quindi i programmi di recupero urbano che erano i Pru i programmi integrati che erano i PII i contratti di quartiere quindi tutta urbanistica partecipata anche dal punto di vista della partecipazione economica quindi non solo degli stakeholders dei portatori di interesse o di conoscenza gli shareholders in quel caso ma anche dei progetti di partenariato i famosi PPP pensiamo alle STU che sono abbastanza che sono state utilizzate in un certo periodo negli inizi del 2000 le società di trasformazione urbana che avevano appunto l'obiettivo di dare delle funzioni più sostenibili e più coerenti con la qualità dell'abitare che non le società di trasformazione urbana con la partecipazione di capitale pubblico misto quindi privato e pubblico quindi questi PII che noi vediamo di nuovo inseriti giustamente in questa transizione in questa nuova rigenerazione ambientale e sociale del paese la cui realizzazione è ormai ineludibile e l'abbiamo visto per quello che ha comportato vivere nelle nostre città durante il covid e per gli effetti che una buona rigenerazione può sortire per l'economia urbana per la città e i suoi utenti qualsiasi essi siano e per evitare il consumo di suolo di aree periferiche o agricole si ritorna a parlare di azioni integrate quindi piani di piani e programmi come i PUI per i riferimenti che ho fatto brevemente e per il fatto che comunque c'è una tradizione importante che si origina dagli anni 90 con l'urbanistica partecipata vi rimando allo stesso sito che la camera ha messo a disposizione un link scusate che la camera ha messo a disposizione all'interno del programma PNRR per dare evidenza e contezza di ciò che vi sto dicendo vi rimando quindi al link che potete appunto copiare direttamente e incollare sul vostro browser che vi dà tutte le informazioni comprese quelle richieste adesso sui contratti di quartiere e che poi se avremo tempo vi dirò in diretta quindi il tema delle basse che ci troveremo e vi troverete ad affrontare io col comune con la regione con la quale appunto della quale faccio parte in coda della commissione regionale comincio e ho già in qualche modo cominciato a valutare gli effetti di questi programmi o piani che comunque avranno un'accelerazione importante tra un paio di mesi perché usciranno anche addirittura dei bandi specifici di trasformazione se voi leggete bene il PNRR appunto varati al Ministero dell'Interno cosa 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 significa inclusività e sostenibilità dei due aspetti fondamentali la qualità e la sicurezza quindi oltre ai puoi nel 59 che abbiamo avuto modo di analizzare di cui vi abbiamo fornito anche i dossier tematici in bibliografia abbiamo anche un'altra misura ma ne abbiamo altre ma questa in particolare è suscettibile delle informazioni e dei contenuti che dovremmo dare in sede di rapporto ambientale che è la misura sicuro verde e sociale riqualificazione edilizia residenziale pubblica perché è molto importante questa misura insieme ai puoi perché appunto la rigenerazione sostenuta dal fondo coesione integra sia obiettivi di prestazione dei piani mi spiego normalmente quando purtroppo se fatta vassa è molto male devo dire in quasi tutto il territorio nazionale uno dice questa è la mia proposta di piano e sta lì e la descrive poi in un rapporto ambientale escono fuori degli indicatori di prestazione di piano di sostenibilità che nella relazione di piano non ci sono questa è una totale cattiva interpretazione della VAS il piano oggi più che mai le proposte di piano quando noi presentiamo il rapporto ambientale e gli elaborati che fanno parte integrante dei materiali messi a disposizione per la consultazione il piano già di rigenerazione o il nuovo piano regolatore perché si stanno si aggiornano i piani ovviamente o il piano particolareggiato o piani di interesse anche settoriali piani per la rigenerazione delle periferie che è un piano ad hoc devono assolutamente inserire già nei propri obiettivi e nei rapporti ambientali gli obiettivi di prestazione ambientale richiesti ai piani e ai programmi non solo dal PNRR quindi dalla decretazione d'urgenza chiamiamola così ma richiesti normalmente per fare fronte agli effetti dei cambiamenti climatici e per rafforzare e tutelare la biodiversità sono i due aspetti contenuti dentro l'accezione green di cui abbiamo parlato all'inizio tutto ciò che procura la decarbonizzazione è un buon obiettivo di piano quindi se ho già nel mio piano nella mia proposta di piano anche appunto in questi pui che abbiamo utilizzato e per i quali la spesa deve essere assolutamente raggiunta io devo integrare questi obiettivi già che sono di prestazione nel cosiddetto ciclo VPSIR determinanti pressioni impatto stato e risposta che il ciclo è la linea guida essenziale su cui costruiremo i nostri indicatori di VAS già noi negli indicatori di stato dobbiamo dire a cosa cosa abbiamo fatto fino ad oggi in relazione alla tematica della proposta di piano relativamente a tutti gli impatti ambientali e agli effetti della mitigazione dell'inquinamento dell'area del consumo di suolo della conservazione della biodiversità dobbiamo dire cosa abbiamo fatto e questo è la S il nostro stato da cui parte quindi la proposta di piano lo dobbiamo dire e dobbiamo dire quali sono gli impatti stessi positivi anche e negativi qualcuno spesso nei rapporti ambientali dimentica di parlare degli impatti positivi e dei benefici quindi in questa fase di questo ciclo per andare a individuare poi gli indicatori che andiamo a monitorare dobbiamo dire già quali sono gli indicatori di prestazione del nostro piano per raggiungere questi obiettivi di transizione ecologica di rigenerazione li dobbiamo stabilire non possiamo scriverli semplicemente nel rapporto ambientale quindi per facilitare la decisione ecco lo scopo del DL77 io facilito una procedura ma devo avere gli elementi per poter serenamente valutare la positività o la negatività di una proposta di piano in ordine alla sostenibilità quindi non bastano per la rigenerazione nel nostro caso per rigenerare per attuare gli investimenti non bastano non basta la facilitazione delle procedure le procedure risultano semplificabili e facilitabili se vi sono delle condizioni ex ante di partenza cioè quelle informazioni e quei contenuti che devo rendere in sede di rapporto ambientale e quindi di piano infatti gli equilibri che adesso di cui parlava la dottoressa Iuvone che sono messi in gioco sono tutti equamente sanciti e tutelati dalla costituzione e dagli statuti fino agli statuti comunali non possiamo dire che il paesaggio vale più della qualità dell'aria ok non possiamo dire che l'ambiente e la biodiversità sono più importanti e la salute umana ma tutti assieme interrelati concorrono all'unico obiettivo che è quello che poi persegue la VAS e persegue la valutazione di incidenze e persegue la via il mantenimento in uno stato di condizione accettabile e sostenibile di tutte le risorse e dell'umanità io devo assicurare questo mantenimento laddove una di queste componenti che sono tutte da considerare per il recupero la rigenerazione vacilla o non è degnamente considerata e trattata è chiaro che dal punto di vista non solo del rapporto ambientale ma soprattutto della valutazione ambientale io dovrò non potendo mettere più prescrizioni nell'articolo 12 dovrò dire se ha soggetto o non ha soggetto meno un piano quindi aggravo la procedura se tu non mi dai le informazioni poi dal cosiddetto aggravio di procedura il blocco determinato alla burocrazia purtroppo non è la burocrazia che lo determina e non è la semplificazione amministrativa che invece lo sblocca è la bontà la sostenibilità e l'integrazione di tutte le componenti che sono degnamente ed equamente tutelate all'interno dei rapporti ambientali per fare un breve stupido esempio se io devo rigenerare senza modifiche importanti una piccola area quindi si tratta di una modifica minore per cui attivo sicuramente la cosiddetta verifica da soggetto a vita se gli unici interventi di questa area o piano attuativo avviato contemplano appunto la rigenerazione quindi al posto dei parcheggi perché io il parcheggio ho deciso come amministrazione che invece di tenerlo dentro il piano attuativo l'ho delocalizzato vicino ai parcheggi intermodali ok vicino alle centrali ai grandi parcheggi di scambio quindi tolgo dalla città e tolgo dal mio piano attuativo ecco i parcheggi perché non ha più senso una volta che io sto attivando una modalità sostenibile che per forza si parcheggi dentro le proprie case e faccio questa ipotesi lo pongo a una distanza sostenibile appunto la distanza famosa dei 300 metri lì posso invece imporre come la legge vuole all'interno dei fabbricati del mio piano attuativo per cui non avrò più parcheggi all'esterno e al posto di questi parcheggi vi faccio quindi una simulazione ci vado a mettere un bel giardino pubblico allora io sono sostenibile sto applicando la legislazione perché io ho l'obbligo che se sto facendo un piano attuativo residenziale di andare a mettere i parcheggi all'interno dei fabbricanti e per una sezione di scavo che non confliga con eventuali problematiche di carattere idrogeologico quindi sono proprio a norma e sto edificando a norma non capisco perché mi devo tenere tutte queste macchine all'interno anche del lotto che oltre ad avere un impatto perché le città devono diventare sempre più belle paesaggistico inutile perché i parcheggi li vado a mettere quelli della residenza all'interno e quelli invece che non sono connessi alla residenza non li devo fare li cedo in parcheggi esterni ma permettete che al posto dei parcheggi vado a mettere un bel giardino a quel punto io sono sostenibile la condizione ambientale è che io vado a migliorare un piano attuativo e quindi non vedo non faccio varianti faccio una modifica minore migliorativa e quindi sono tranquilla e comunque di avere intrapreso un percorso per cui la famosa il famoso rischio di assoggettabilità si allontana quindi vedete come con buone scelte poi la valutazione fatta all'autorità competente dà il risultato sperato io farò quel bell'intervento di poi di rigenerazione di un quartiere per esempio di edilizia economica e sociale probabilmente anche pensando di accordarmi con il comune a dire guarda delocalizzo tutte le funzioni che presuppongono un consumo di suolo ecco chiamiamolo così un degrado una cattiva utilizzazione mi faccio un piccolo accordo col comune mi sistemo mi rigenero l'edilizia adeguandola alle norme quindi posso fare dei parcheggi delle aree parcheggi anche sotterranei utilizzando scivoli altre cose che adesso qua non so immaginare e però o consego la rigenerazione o suoli che sono in equilibrio mantengo il principio dell'invarianza idraulica quindi come vedete piccoli accorgimenti in piani stiamo facendo l'ipotesi del piano con la modifica minore che dovrebbe andare ad articolo 12 favoriscono agevolano la riforma e l'accelerazione ma se noi se le autorità competenti hanno a che fare con piani diciamo poco descritti con piani che non evidenziano la loro sostenibilità e rapporti ambientali dei piani che non motivano le scelte in ordine alla sostenibilità evacua e inutile anche il tentativo fatto dallo Stato per accelerare le procedure quindi i rapporti ambientali nella slide leggiamo terranno conto di azioni indicatori in tutto il ciclo che a parità di obiettivi in gioco tutti i parimenti tutelati anche lo sviluppo economico sostenibile la crescita sostenibile e tutelata potrebbero essere conflittuali noi dobbiamo superare gli eventuali elementi di conflitto o comunque motivare la prevalenza di un interesse ambientale quindi di tutto l'ambiente che mi sostiene appunto la sostenibilità della proposta di piano ma va motivata va motivata sullo base dello studio attento dello Stato dell'Ambiente altra problematica altra tematica altra criticità nei rapporti ambientali per esempio uno dei casi che sicuramente nei pui e nella rigenerazione verranno presi in considerazione quindi nei rapporti vasti nei piani è l'eventuale conflitto generabile soprattutto nelle aree periurbane o a contatto delle aree agricole dalla transizione energetica io devo andare a uno intervenire per esempio nei centri storici su siti di aree o edifici tutelati con interventi retrofitting quindi come faccio ad applicare il bonus alle facciate dei centri storici come faccio a mettere dei pannelli fotovoltaici nel piano particolareggiato del centro storico mi siamo sempre in tema di vase cioè quindi queste cose vanno affrontate va anche affrontata la sostenibile alternativa e ragionevole è possibile pure che utilizzo un'area del centro storico brownfield con suolo consumato per andare a mettere una batteria di accumulo degli impianti fotovoltaici che mi rigenerano dal punto di vista energetico tutta l'area di piano e quindi gli edifici senza creare impatti cioè con pareri sostenibili anche dal punto di vista del paesaggio e quindi delle competenze delle sovintendenze come vedete una delle altre cose che nelle vase sono carenti è l'evidente motivazione di come gli interessi sono tutti bilanciati e contemperati e la presentazione di tutti gli scenari e delle alternative possibili e di come io ho scelto l'alternativa che sto selezionata e che sto portando a VAS quindi siamo sempre lì bisogna seguire linee guida che comunque sia il decreto legislativo ma le linee guida del sistema nazionale protezione ambientale SNPA ISPRA hanno messo a disposizione e vi dico c'è tutto in queste linee guida basta farsi condurre per mano quindi analizzare e valutare non solo gli interessi ambientali e il loro riequilibrio ma con l'integrazione sostenuta dall'Unione Europea da un decennio negli studi e nei rapporti ambientali dell'integrazione dei cambiamenti climatici e della biodiversità in che senso? Quindi abbiamo detto che un piano generale attuativo un pui un piano di rigenerazione deve chiaramente contemporare e valutare questa sostenibilità ma gli impatti che si possono generare paradossalmente anche dalle azioni abbiamo visto per la mitigazione e l'adattamento su altre importanti componenti ambientali oppure i piani e i programmi che sono improntati alla rigenerazione urbana sia dell'ambiente urbana ma anche di scale più vaste pensiamo alle strategie e le aree interne che trasformano i territori per i servizi essenziali importanti la viabilità il servizio ospedaliero eccetera improntati alla rigenerazione urbana quindi anche i pui del PNRR e del PNC devono essere a loro volta valutati per gli eventuali impatti generati sulle componenti più vulnerabili l'aria le risorse naturali che stanno esaurendosi e la salute umana cioè alla fine sono questi gli aspetti di maggiore vulnerabilità dei territori compresa ovviamente e ricompresi nella componente sociale che fa parte vi ricordo del set delle componenti e dei fattori della VAS che sono elencati negli allegati alla parte seconda al decreto legislativo quindi ci sono tutti i contenuti appunto nell'allegato 1 per redigere le informazioni del rapporto ambientale preliminare per la soggettabilità ma vi sono anche i contenuti nell'allegato 6 per redigere i rapporti ambientali dall'articolo 13 fino alla decisione sulla programma e piano o variante che noi stiamo sottoponendo all'autorità componente quindi adesso c'è un innesto molto importante ma questo appunto l'Unione Europea l'ha sollecitato sin dal 2013 dell'integrazione nella VAS dei cambiamenti climatici e della biodiversità quindi per raggiungere appunto questi obiettivi di efficacia dei piani dei programmi che abbiamo visti per la transizione ecologica e per la rigenerazione della città e dei territori sinteticamente nei piani barra programmi e nei loro rapporti ambientali devono essere individuati a parità dello stato dell'ambiente di riferimento ma anche del trend delle loro componenti c'è un ambiente lo stato dell'ambiente noi lo fotografiamo appunto nel momento in cui decidiamo di intervenire in un'area per cui quest'ambiente è il riferimento quindi noi andiamo a studiare e ad analizzare tutta la programmazione che è preordinata perché nell'ambiente VAS c'è l'ambiente cosiddetto del quadro programmatico di riferimento andiamo a studiare quindi tutti i piani preordinati e il regime vincolistico per tutte le componenti in gioco aria acqua suolo salute trasporti tutte le componenti che sono di potenziale e reale interferenza della proposta di piano ma a monte e rispetto a livello locale di proposta che facciamo rispetto al PUI per esempio o al piano di rigenerazione ci sono i piani preordinati sia dal punto di vista urbanistico dal punto di vista dei beni culturali quindi i piani paesaggistici i piani regionali urbanistici i piani energetici regionali i piani energetici a livello appunto consortile quindi magari di unione di comuni ci sono i PAES e i PAES che degli stessi comuni dal punto di vista dell'efficienza energetica della sostenibilità ci sono i piani per l'assetto idrogeologico che vanno considerati ci sono i piani delle autorità di bacino ci sono i piani delle cave per cui non so se posso utilizzare o meno una cave a debita distanza oppure devo come dire utilizzare materiale riciclato magari c'è un importante impianto di frantumazione che mi ricicla del materiale che è stato caratterizzato devo andare a vedere tutto ciò che è l'ambiente della programmazione e dico ma questo mio piano che deve conseguire con gli obiettivi di rigenerazione ecco la biodiversità non bisogna intendere solo la rete natura 2000 se il piano ricade o non ricade all'interno di un sito tutelato dalla rete natura 2000 ma se nella realizzazione delle azioni e degli interventi di piano io posso interferire con il sistema dei trasporti con elementi della rete natura 2000 quindi mi vado a guardare quest'area del quadro di riferimento programmatico lo metto a confronto con le azioni e gli obiettivi della mia proposta di piano e comincio a valutare se ci sono elementi di coerenza esterna cioè della coerenza che nel mio rapporto ambientale e con la mia proposta di piano posso come dire ritrovare nella pianificazione ascendente e preordinata e poi lo stato dell'ambiente io devo studiare tutti gli elementi e le componenti ambientali con cui la mia proposta di piano interferisce o sulle quali può determinare impatto financo sulla componente della viabilità locale per effetto dei trasporti quindi io poi mi vado a guardare ad una scala più dettagliata queste componenti vado a vedere la qualità dell'aria attuale vado a vedere il livello di classificazione e zonizzazione acustica e soprattutto devo andare a capire se il mio piano determina come vedremo velocemente nelle slide successive degli impatti sulla decarbonizzazione sulla quindi impatti positivi diciamo sulla decarbonizzazione quindi la liberazione dalle CO2 e quindi sui clima alteranti e sul clima locale sui eventuali dissesti provocati dall'aumento delle temperature o comunque dalla variazione delle temperature se è un rischio alluvioni e quindi la qualità dei corpi idrici ma anche lo status dei corpi idrici superficiali e sotterranei e soprattutto se posso generare delle proficue relazioni con corridoi ecologici di una rete natura che per quanto prossima lontana oppure invece molto vicina al sito io concorro a ricucire a deframmentare questo è molto importante lo vedremo più avanti scorreremo velocemente le slide successive ma tanto poi avete riferimenti sia nelle slide che nelle mine guida e quindi in ambiente VAS quello che noi pensavamo fossero i classici obiettivi di sostenibilità adesso per il progressivo depauperamento delle risorse e per gli impatti generati dagli effetti del cambiamento climatico non possono stare più negli obiettivi ambientali sono obiettivi da incardinare e controllare in VAS che vanno appunto inseriti direttamente nelle proposte di piano vanno poi individuati gli indicatori di prestazione ma gli indicatori di monitoraggio soprattutto che mi dicono che il mio piano sta andando nella giusta direzione oppure che gli indicatori che io ho selezionato e le azioni che ho mitigato magari non sono sufficienti e devo ritornarci appunto dopo questa grande importante innovazione introdotta con le modifiche dell'articolo 18 per quanto riguarda appunto la verifica dell'attuazione degli obiettivi del piano di monitoraggio ambientale quello che l'altra volta si rilevava da parte di alcuni utenti non c'è una rivoluzione in realtà c'è un'importante rivoluzione con l'articolo con la modifica dell'articolo 18 perché per la prima volta cosa che mai era stata contenuta in un codice dell'ambiente c'è una sorta di verifica di tra virgolette non di ottemperanza ma di efficacia della proposta di piano in ordine al piano di monitoraggio ambientale e in relazione agli obiettivi di sostenibilità quindi è l'autorità competente finalmente che dopo la decisione articolo 16 con l'articolo 18 che sembra avere chiuso il ciclo in realtà verifica l'efficacia della sostenibilità e del raggiungimento degli obiettivi anche con l'integrazione degli effetti dei cambiamenti climatici e della biodiversità a tal proposito è molto importante poi appunto queste sono le sintesi che poi leggerete ma che sono appunto le sintesi a cui noi siamo arrivati sono quindi gli stessi strumenti proposte di piani programmi di rigenerazione variante piani attuativi chiamateli come volete che devono essere capati devono contenere gli obiettivi capaci di assicurare la resilienza degli ambiti territoriali e delle comunità di riferimento della proposta di piano e quindi la qualità oggettiva è percepita dei luoghi e degli aspetti pubblici e privati perché è importante tutto questo tutto questo lo ritroverete vi ho dato dei saggi che leggerete con molta tranquillità anche già delle anticipazioni nelle slide nelle linee guida che l'SNPA e il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale ISPRA ha generato a partire dalle suggestioni e dalle raccomandazioni prodotte dalla guida comunitaria del unionale scusatemi nella versione del 2013 della quale ha fatto un'ottima traduzione ve la leggerete con calma nelle slide vi ho dato delle prime anticipazioni le questioni temi di rilievo sicuramente che oltre che la biodiversità concorre e quindi l'aumento della biodiversità anche urbana agricola e non solo quella tipicamente delle aree tutelate e protette quindi quella tipicamente naturale concorre ad abbattere gli effetti negativi dei cambiamenti climatici nella guida all'orizzonte era 2020 amaramente sommessamente devo dirvi che purtroppo questi orizzonti non raggiunti sono stati traslati agli appuntamenti dell'agenda 2030 come è stato già sinteticamente esposto dall'avvocato Iuvone e ora all'agenda 2050 soprattutto per gli effetti dei cambiamenti climatici le città gli ambienti urbani e i piani quindi devono rispondere a tre pilastri e tutti e tre da raggiungere simultaneamente il pilastro è una città appunto health cioè con la salute dei propri cittadini ci sono appunto delle grandi associazioni a livello globale che sono appunto le healthly cities le città salutari devono raggiungere l'obiettivo della safety cioè la sicurezza con l'adeguamento in tutti i piani e in tutti i relativi rapporti ambientali alle indicazioni che provengono dalle autorità di Pacino soprattutto in merito al mantenimento del principio dell'invarianza idraulica e all'abbattimento delle condizioni di rischio le proposte di piano anche di rigenerazione ma in generale di resilienza devono contenere azioni che abbattono e mitigano fino ad annullarlo quando è possibile i rischi attuali sul territorio sia appunto derivanti da crolli e frane e rischi derivanti appunto dai potenziali alluvionamenti perché il livello dell'acqua cresce per effetto dei cambiamenti climatici e soprattutto soluzioni basate sulla natura le cosiddette natural based solutions i piani le proposte di piano di rigenerazione devono contenere questi tre pilastri poi vi lascio mi taccio perché comunque si possono leggere ma vi rimando a questa linea guida per l'integrazione dei cambiamenti climatici ai suoi contenuti e riferimenti che sono molto importanti importanti la lettura del glossario il quale dal 2013 ad oggi ha avuto pochissime integrazioni quindi vedete come la tematica non è così nuova e recente questa linea guida europea tradotta del 2013 e poi la linea passo passo cioè cosa dobbiamo inserire un po' ve li ho accennati in pillole stamattina che cosa dobbiamo inserire sin dalle prime fasi di proposta del piano del programma per raggiungere la per abbattere quindi lottare contro gli effetti dei cambiamenti climatici assicurare l'arresto del consumo di suolo rigenerare i suoli perché il suolo è una componente vitale il suolo è degradato non solo dal punto di vista percettivo ma viene degradato e consumato in maniera irreversibile quando si perdono le proprie capacità di riproduzione di cattura del carbonio ci sono anche questi aspetti nel suolo e quindi di ripresa dal punto di vista di rinaturalizzazione anche un suolo apparentemente abbandonato se non degradato e contaminato si rigenera e ridà luogo a una serie vegetazionale che tenderà a un climax a un proprio equilibrio e attirerà delle specie quindi questi aspetti del consumo non sono solo consumo come occupazione ma consumo come cattiva destinazione dell'uso dei suoli dati all'interno degli atti di pianificazione quindi nella rigenerazione andate a valutare la qualità dei suoli che vi trovate davanti e valutate il loro utilizzo anche i fini rigenerativi le considerazioni gli aspetti fondamentali che ogni piano programma deve considerare quando si trattano i cambiamenti climatici e le biodiversità sono tutte contenute in queste linee guida che vi invito a leggere per integrare e per chi farà i pui perché molte amministrazioni adesso metteranno in campo i propri pui perché possono essere appunto progetti rigenerativi su piani attuativi già esistenti nei piani regolatori quindi tenete conto di queste linee guida nei pui nei vostri piani nelle varianti e naturalmente nei rapporti ambientali che ne fanno parte e come si individuano gli aspetti non sono un problema di analisi ma quali sono gli aspetti dei cambiamenti climatici e delle biodiversità per la vostra per il vostro fattore locale e per il piano programma che state proponendo e quindi cosa va considerato e un po' come l'avevo anche anticipato qualche momento fa come valutare gli effetti e gli effetti sono certi gli impatti i potenziali effetti che non sono certi quindi dovreste individuare governare eventualmente mitigare compensare e se del caso attenuare cioè una volta che li individuate mettete delle misure che già sono intrinseche alla realizzazione non le mitigate dopo pensateci un po' prima se non ce la fate mitigate o appunto vi adattate cosiddette misure di adattamento e poi c'è tutta la guida nelle sezioni in effetti è questa poi la struttura della guida c'è una una mappa molto importante che vi rimanda a tutte le sezioni specifiche e vi sono tre allegati molto importanti uno di questi contiene non solo appunto le tabelle per andare a valutare gli aspetti dei cambiamenti climatici e della biodiversità da considerare nell'ambito della VAS appunto capire se c'è produzione o domanda dei cosiddetti gas effetto serra e qua c'è una tabella esplicativa molto chiara e soprattutto in che chiave appunto si può gestire sia lo screening che la valutazione articolo 13 sempre ai fini della mitigazione dei cambiamenti e quindi le stime e le valutazioni che noi diamo a valle dell'analisi dello stato dell'ambiente e dei contenuti della proposta di piano e niente insomma l'individuazione degli aspetti chiave della biodiversità che devo considerare all'interno della città a noi sembra strano ma ci sono elementi ci sono specie microabita turbani che sembrano cosiddetti banali ma che invece nel contesto della funzione che hanno nella più estesa rete di biodiversità rappresentano i cosiddetti nodi corridoi che mettono insieme e rafforzano la biodiversità e quindi incidono favorevolmente sull'abbattimento per esempio delle isole di calore quindi vanno mantenuti questi aspetti della biodiversità urbana perché incidendo sull'abbattimento delle isole di calore chiaramente contribuisco anche agli eventi traumatici nel territorio ma anche contribuisco agli effetti positivi della transizione energetica e quindi a parte appunto le tabelle e gli allegati io vi sollecito uno a rivedere i classici allegati del DLGS 152 decreto legislativo 152 ma soprattutto a leggere linee guida perché se negli allegati relativi alla verifica della soggettabilità a VAS e alla VAS ci sono i contenuti minimi non c'è la modalità con cui i detti contenuti dei piani in termini di sostenibilità e dei rapporti ambientali devono essere argomentati e svolti e motivati per questo io in ultimo ma già l'ho fatto con precedenti comunicazioni e con precedenti linee guida vi esorto soprattutto in questa fase a utilizzare queste ultime linee guida per l'integrazione degli effetti dei cambiamenti climatici e della biodiversità io vi ringrazio mi scuso se ho superato il tempo assegnato grazie le vedo di nuovo collegate in valle allora io prima di chiudere ricordo il webinar del 19 ottobre la semplificazione del titolo edilizio per gli interventi di cui vi all'articolo 119 del decreto legge 34 2020 c la super bonus è possibile già iscriversi a questo webinar sul sito di eventi PA infine ricordo che sia la registrazione che le slide di questo intervento saranno messe a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di eventi PA la pagina dedicata a questo evento e pubblicheremo poi successivamente anche le risposte alle vostre domande sullo stesso sito di eventi PA per quanto concerne gli attestati di iscrizione questi saranno scaricabili autonomamente nei prossimi giorni sul sito di eventi PA la voce i miei eventi saranno rilasciati a quanti hanno seguito almeno il 20% dell'incontro e si sono iscritti chiaramente all'incontro stesso io ringrazio ancora tutti e tutte le relatrici vi auguro una buona giornata grazie a tutti e a tutte grazie grazie a tutti grazie Norina e buona giornata a tutti grazie 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 grazie